Commento su questi 20.000 contagiati. Che cosa ci raccontano, professor Crisanti? Ci raccontano l'attività della variante inglese, che d'altronde proprio qui da lei avevamo già discusso due settimane fa, che si sarebbe fatta sentire, si ricorda? Certo. Due settimane fa era il 15 al 16%, adesso viaggia intorno al 40%, c'è una diffusibilità che non è paragonabile a quella del ceppo originario che ha coinvolto l'Europa nei mesi passati. E purtroppo è un concetto che evidentemente i nostri politici hanno fatto fatica ad assimilare, perché ancora sento parlare d'aperture, sento parlare all'ordine del giorno, ci stanno delle proposte che sono assolutamente irrealistiche con la dinamica della trasmissione in questo momento. Lei parla dei teatri o dei ristoranti la sera, l'allentamento delle briglie. Sì, ogni volta che noi abbiamo delle misure restrittive, tipo zona arancione e zona rossa, i contagi calano, improvvisamente riparte il dibattito su come riaprire al più presto.